Un cobra per la panchina della Fidelisandria. Il club bianco-azzurro ha fatto precedere dall'immagine del soprannome che lo accompagnava sul campo, dove è stato attaccante da oltre 150 gol tra i professionisti, l'annuncio dell'arrivo di Ciro Ginestra in panchina. Tocca quindi all'allenatore, nato ad agosto del 79 a Pozzuoli, prendere il posto di Gigi Panarelli, esonerato dopo la sconfitta per 2-0 di domenica scorsa a Potenza, la quinta incassata dai bianco-azzurri in otto giornate di campionato. Ex di Bisceglie e Casertana in C, ultima tappa, Picerno in D, Ginestra rileverà una squadra a caccia di certezze con un rendimento difensivo, già 14 gol subiti in queste otto giornate da registrare e un attacco da sistemare con sette reti realizzate, di cui tre nella partita di campo basso. Ginestra ha incontrato i dirigenti della Fidelis lunedì sera, pochi minuti dopo l'annuncio che sanciva l'addio con Panarelli, allenatore che aveva guidato la squadra dall'estate 2020, portandola fino alla finale play-off persa contro il Picerno e al ripescaggio arrivato a inizio agosto, e approdando alla firma martedì mattina. Nel suo staff ci saranno il vice Gennaro Di Maio e il match analyst Vincenzo Russo. L'altra idea della dirigenza per la panchina portava all'ex Virtus Francavilla, Bruno Trocini, una pista sfumata però dopo l'incontro di lunedì a pranzo in cui le parti non avevano maturato un accordo. La Fidelis, penultima alla pari con il Messina, con cinque punti dopo otto giornate nel girone C di Serie C, si prepara a ripartire da Ginestra e dall'Avellino, prossimo avversario domenica al Degli Ulevi. Proseguono invece le valutazioni del club sulla posizione del direttore sportivo Alessandro Degli Esposti, non coinvolto in prima persona nella scelta del nuovo allenatore. Non sono da escludere sviluppi sul tema già nelle prossime ore.